Scusate amici se parlo sempre di sofferenza, ma è il mio status e quindi ne parlo con dolore e amarezza perché è ingiusto. Anch'io avrei voluto essere felice rispettando i canoni che la società ci mette a disposizione. Ci metti insomma. Grazie. 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 Ma si sa, nella vita c'è sempre uno nel gruppo che fallisce. I miei guai sono cominciati fin da giovanissimo. Ho dovuto subire torture psicologiche veramente importanti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Dove fossi rispettato come uomo, un vero uomo, non come unico. Non mi ti hai capire, hai capire un discosso che non mi ti hai capire.